giornata decisiva per il futuro della juventus è arrivato in un'ufficialità molto molto importante perché c'è un'altra vittoria da parte della juventus in questo processo che vede coinvolta la vecchia signore che forse è arrivata a un punto di volta cerchiamo di capirci qualcosa e cerchiamo di analizzare la notizia di oggi perché il consiglio di stato ha respinto il ricorso presentato ieri dalla figc e quindi torna in attualità questa famosa carta segreta scopriremo a livello proprio pubblico cosa c'è in questa carta segreta che ha cercato la figc di nascondere cercheremo di capire perché si sta evolvendo tutta questa vicenda in questo modo analizziamo tutto insieme qui oggi su fcm sport a proposito vi ricordo come sempre di supportarci e quindi seguiteci più che altro perché qui troverete costanti aggiornamenti sulla vicenda della vecchia signora sia per quanto riguarda il campo vedremo domani la sfida contro la samp che può proiettare la juventus verso quello che è un obiettivo champions league capiremo poi se ci saranno questi 15 punti o meno però anche per quanto riguarda la vicenda extracampo che comincia a prendere praticamente una una visione molto più ampia rispetto a quello che ci aspettavamo allora andiamo alla notizia perché la notizia di oggi è ufficiale il consiglio di stato ha negato alla figc la richiesta di sospendere la decisione del tar in base a cui la stessa federazione e la covisoc dovranno quindi consegnare la famosa carta segreta la nota e 10.940 la famosa nota del 14 aprile del 2021 richiesta espressamente dai legali di cherubini e di paratici e che ora dovrà essere resa pubblica la figc in qualche modo ci aveva provato e e tra l'altro facciamo un piccolo passo indietro ricordate quando il ministro abodi aveva parlato di processo che doveva essere assolutamente trasparente ecco di fronte a questa richiesta del ministro dello sport quindi non di pinko pallino la figc cosa fa? vuole nascondere un documento che può essere fondamentale per questo tipo di processo e allora dove sta la trasparenza? perché questo voler nascondere questo documento? la figc aveva chiesto proprio di poterla nascondere non presentarla ai legali della juventus ma soprattutto ai legali degli ex dirigenti juventini paratici e cherubini la famosa ormai carta covisoc del 2021 quindi la figc ha immediatamente disposto la consegna del documento che potrebbe perché è così importante? la verità è che non è tanto importante il contenuto ma è importante il contenuto in virtù del fatto che questo documento potrebbe rappresentare una violazione dei tempi procedurali dell'intero percorso giudiziario sportivo della juventus e quindi juventus plus valenze questo quindi cosa comporta? il fatto che se si realizza tutto ciò quindi se alla fine sono stati violati i tempi del processo e se quindi viene reso nulla tutto questo processo a quel punto succede che la famosa penalizzazione di 15 punti inflitta alla juventus e ricordiamolo la figc ne ha inflitti 15 a fronte di una richiesta della procura di 9 addirittura superiore cosa che ripeto molto spesso non capita quasi mai perché molto spesso si chiede il massimo ossia 9 punti e se ci sono le basi si cerca di trovare e di trovare una soluzione intermedia una sorta di mediazione per arrivare magari alla metà e infatti il pronostico era 4-5 punti ecco la figc è andata forte pesante dura e addirittura ne ha dati più del previsto 15 oggi però le cose stanno cambiando e quindi non soltanto la juventus ha fatto ricorso al coni ma c'è la possibilità grazie a questa carta di poter far saltare tutto letteralmente tutto la federazione ora dice non è assolutamente rischioso questo documento però viene da pensare e perché la volevi tenere nascosta cosa c'è di tanto preoccupante perché allora addirittura ricorri al consiglio di stato per nascondere questo tipo di situazione oggi si è espresso un giudice monocratico il 23 marzo ci sarà un'udienza davanti all'organo collegiale andiamo a leggere addirittura proprio quella che è la spiegazione perché il decreto è stato firmato proprio da Niccolò Lotti e leggiamo considerato che non sussistono i presupposti per la misura monocratica è valutando la sussistenza di un pericolo in funzione di un'ordinaria richiesta cautelare collegiale ma non di una richiesta riservata alle sole ipotesi di un'estrema gravità e urgenza quindi collegata a un danno definibile come catastrofico per la parte deducente questo è un punto fondamentale fondamentale perché avevamo parlato proprio di questo processo come un processo che doveva essere che già fin dall'inizio presentava delle lacune ricorderete ora sembra quasi passato un'eternità ma ricorderete tutti i video che sono usciti dei vari di Ciro Santoriello e delle altre le altre situazioni che ha già avevano fatto capire che questo tipo di processo comunque era condizionato da antipatie che erano chiare ed evidenti quindi già da allora avevamo visto qualcosa che diciamo non lineare perfetto poi ci si mette anche questa carta e allora in un processo normale in cui la FIGC che ricordiamo la federazione italiana gioco calcio che ha che fare quotidianamente con l'eventus e che con la juventus per anni è andata avanti ecco di fronte a un processo del genere nel momento in cui si richiede la presenza di questo documento sussiste anche quello che è ragionamento del ministro Abodi cioè trasparenza perché mai poca trasparenza l'abbiamo vista quando sono usciti quei video dove si parlava di PM di PM che lavoravano che come PM sono anti juventini e come persone sono dei napoletani dei tifosi del Napoli un processo come questo in cui la FIGC vuole nascondere certi documenti che possono risultare importanti per questo tipo di processo un processo in cui viene data una penalizzazione addirittura più alta rispetto a quella che la richiesta e la procura una penalizzazione data in virtù di un per un atteggiamento che non è neanche normato cioè c'è veramente qualcosa di grosso c'è veramente qualcosa di poco trasparente e mi piace riconfermare sempre quelle che sono le parole del ministro perché del ministro Abodi perché più volte se parlate di un processo trasparente beh mi sembra chiaro che ci sia poco di trasparente la FIGC si è attivata per consegnare il documento già oggi quindi dovrebbero arrivare aggiornamenti nelle prossime ore massimo domani continuo a affermare la FIGC che secondo lei non è decisivo a livello processuale e non lo ritiene nascosto rischioso certo ovviamente ci chiediamo il perché allora c'è la volontà di nasconderlo sta di fatto comunque che dovrà essere consegnato entro martedì già oggi si dice che verrà consegnato ma comunque a livello teorico dovrà essere consegnato entro martedì agli avvocati che rappresentano il club bianconero questo può essere un punto di volte e questo può essere secondo me può crescere anche far crescere la fiducia da parte dei legali della Juventus sono giorni e giornate intere sono varie settimane che cresce l'ottimismo forse ora e cominciamo a capire il perché ciao 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 ciao